Oggi vorrei affrontare il tema di quello che propongo di chiamare il teorema di Laboessi, la servitù volontaria. Laboessi, amico di Montaigne, addirittura Montaigne dice nei saggi di aver continuato virtualmente il dialogo con l'amico Laboessi, scomparso prematuramente, e Laboessi è noto, oltre che per la sua amicizia con Montaigne, per il discorso sulla servitù volontaria. Prendo allora le mosse da una citazione tratta direttamente dal testo di Laboessi. Decidetevi a non servire più, ed eccovi liberi. Non voglio che lo abbattiate e lo facciate a pezzi, soltanto non sostenetelo più, e allora, come un grande colosso cui si è stata tolta la base, lo vedrete precipitare sotto il suo peso e andare in frantù. Fine della citazione. La servitù volontaria, l'idea, come dirò tra breve, che il potere si sostenga essenzialmente grazie alla connivenza dei suoi sudditi. Il potere implica un reticolo, un rapporto bionivoco, non è qualcosa che viene puramente subito dai sudditi o genericamente da quelli che sono sottoposti al nesso di potere. Ecco, ma prima di arrivare alla Laboessi voglio rifare il punto della situazione. Abbiamo detto che perché il dissenso possa fiorire nella molteplicità delle forme che lo contraddistinguono e che danno luogo, come si diceva, alle concrete figure della filosofia politica in cui si incarna il dissenso, la rivoluzione, la ribellione, la contestazione, l'antagonismo, ebbene perché queste figure possano concretamente prendere forma, occorre anzitutto, l'abbiamo visto, che il soggetto avverta nelle configurazioni dell'ordine reale e simbolico una mancanza, l'essere altrimenti di ciò che è rispetto a ciò che potrebbe essere. Per questo nel tempo del conformismo che pervade gli spazi del consenso e del dissenso in maniera totalizzante, il potere, anche questo l'abbiamo detto, si adopera affinché la coscienza non riesca a registrare difetti e contraddizioni, o semplicemente si illuda che il reale esaurisca anche il possibile, di modo che vengano negati a priori gli spazi di una possibilità di essere altrimenti rispetto a come si è. L'esempio che possiamo ancora una volta richiamare è quello adotto da Sartre nell'essere e il nulla, quello del quarto di luna. Il quarto di luna può apparire mancante solo dove la coscienza sia in grado di commisurare il quarto di luna con la circolarità della luna piena. Di per sé il quarto di luna, se non commisurato alla pienezza della circolarità della luna piena, è in sé perfetto. Fuor di metafora, il poter essere a fare apparire come mancante l'essere e dunque apporre le basi per un'eventuale contestazione di ciò che è. Se l'ideologia riesce a convincerci che il quarto di luna sia la sola forma possibile, e che dunque non vi sia la pienezza della luna piena, appunto la circolarità della luna piena, allora effettivamente il poter essere si dissolve nell'essere, il possibile nel fattuale. In effetti l'ideologia oggi, che produce il consenso di massa e la gestione organizzata degli stessi flussi del dissenso, opera in questo senso, converte il fattuale in normativo. Ci convince dell'inesistenza della circolarità della luna piena. E riesce per questa via a garantire se stesso, disciplinando il consenso e il dissenso. Mantiene gli uomini in una condizione di cattività simbolica oltre che reale. Senza l'attiva partecipazione degli schiavi al loro stesso dominio, il dominio sarebbe destinato a implodere. Finirebbe per essere travolto dalle ondate del dissenso e delle concrete figure storiche nelle quali esso viene organizzandosi. Per questo la forma in cui meglio sembra lasciarsi condensare il nuovo spirito gregario degli ultimi uomini nel quadro del conformismo di massa, che accettano in maniera irriflessa ciò che il potere prospetta loro perché incapaci di figurarsi la circolarità della luna piena, e quindi vivono la volgarità edonistica del quadro postmoderno contemporaneo. Ebbene, la figura che meglio rappresenta forse questo scenario è quella messa a tema da Laboessi con la servitù volontaria. Che cos'è la servitù volontaria? Con questa figura Laboessi coglie, io credo, un aspetto inquietante, un'ombra che sta dentro di noi. Quello scuro desiderio di servire pur di essere lasciati in pace, di essere dominati, di essere schiavi, pur di non vedere interrotto il godimento illimitato di cui quotidianamente beneficiamo. Circolazione di servizi, merci, gretto edonismo su tutto il giro d'orizzonte, quella che Nietzsche nello Zeratustra chiama la felicità degli ultimi uomini, una vogliuzza per il giorno e una per la notte, fatta salva la salute. Ecco, la gabbia d'acciaio di Max Weber costituisce lo sfondo ideale per la proliferazione degli ultimi uomini come servi volontari, come cultori attivi della propria schiavitù. La gabbia d'acciaio rappresenta il mondo del tecnocapitalismo ipostatizzato in destino intrasformabile. Il modo in cui Weber chiama la gabbia d'acciaio il capitalismo implica esattamente il fatto che le sbarre inossidabili del capitalismo e della tecnica non possano essere forzate. Gli spazi di libertà debbono essere ricercati nei perimetri confortevoli di questa gabbia, come politeismo dei valori, come godimento degli stili di vita plurali, sempre all'interno però della gabbia d'acciaio. Rinunciate a ogni speranza, voi che siete nella gabbia, ogni speranza di esodo. La gabbia d'acciaio di Weber, potremmo anche dire giocando sulla metaforica, come già abbiamo fatto, è la caverna di Platone privata del possibile esodo. La filosofia cessa di nobilitarsi mediante il compito del traghettamento degli uomini fuori dalla caverna e diventa una pratica consolatoria con la gabbia d'acciaio che permette agli uomini di vivere gaudentemente all'interno della gabbia, sapendo che non è possibile un fuori. Si può vivere massimamente, godendo massimamente all'interno della gabbia. Allo stesso modo la tecnica di cui ci parlano a tambur battente gli heideggeriani, proprio come la caverna di Platone diventa la gabbia d'acciaio di Weber, così il modo capitalistico della produzione di Marx diventa la tecnica di Heidegger e degli heideggeriani. Anche in questo caso la tecnica di Heidegger in fondo non è altro che il capitalismo di Carlo Marx, pensato in maniera non dialettica e quindi pensato come intrasformabile. Il capitalismo, come lo pensa Marx, è l'esito di un porre storico e soggettivo, è l'oggettivazione di un rapporto sociale che in quanto tale può essere trasformato mediante la prassi che l'ha posto in essere. La tecnica di Heidegger in quanto figura della Seinsgeschichte, la storia dell'essere, non è posto dagli uomini né dagli uomini può essere trasformato. Solo un Dio ci può salvare. L'undicesima tesi su Feuerbach, emblema della prassi trasformatrice, della soggettività creatrice legata a un progetto rivoluzionario, trapassa con Heidegger nel disincantato ed esolante, a tratti anche depressivo, corollario per cui solo un Dio ci può salvare. E' questo lo sfondo ideale metaforico in cui ci troviamo. Gabbia d'acciaio di Weber, tecnica di Heidegger o se volete anche potere alla Michel Foucault. Cos'ha di caratterizzante il potere a Michel Foucault? Al di là della precisa archeologia che egli ne traccia. Il fatto che in qualche misura è ubiquitario, è dappertutto e quindi da nessuna parte. E' pressoché impossibile vincere contro il potere così come lo delinea Foucault. Il potere vincerà sempre perché è onnipervasivo, è totalizzante. Ecco, in questo quadro profila c'è un progetto rivoluzione.